Artisti di strada, scherma storica, tiro con l'arco, ambientazione, giochi medievali, Museo della Tortura, sbandieratori e musici dello Stato di Diano, artigianato ed enogastronomia locale, sono gli ingredienti della terza edizione della Corte in Festa Natale al Castello, in programma dal 6 all'8 dicembre al Castello Macchiaroli di Teggiano, che si prepara ad ospitare anche quest'anno un evento indimenticabile. Ogni anno attira grandi e piccoli, grazie ai giocolieri, agli arcieri storici, ambientazione e giochi medievali, rievocazioni leggendari, il tempo si ferma per tre giorni all'interno dell'affascinante fortezza che da 800 anni è scrigno di storia e cultura, poi spettacoli e mostre ad arricchire la Kermess, una qualificata selezione di enogastronomia tipica e un'accurata esposizione di artigianato per i regali in vista del Natale. E anche quest'anno a Teggiano sarà divertimento, grazie all'ospitalità della padrona di casa Gisella Macchiaroli, all'organizzazione di Casa Artigiani Salerno di Mario Andresano, al coordinamento tecnico-scientifico di Angelo Sabini, al sostegno della Camera di Commercio, al patrocino del Comune di Teggiano e alla Direzione Artistica di Mestieri e Sapori. L'ingresso è gratuito, si comincia venerdì 6 dicembre, le porte restano aperte dalle ore 18 alle ore 22, mentre sabato e domenica per l'intera giornata dalle ore 11 alle ore 22.